Eccolo Carlos Grazie piccola Grazie a tutti No ragazzi è nuovo il server È nuovo Non conosco nessuno Una macchina Oh Che bello Dove? Oh mi vuole fare una foto? Faccio dei pull Oh signora Non voglio fare di niente Signora Salve Mi sente? Signore? Mi sente? Oh la sento signore com'è? Salve Com'è? Piacere Piacere? Il nome è Chris Il mio nome è Carlo Giardone Salve signor Carlo E' per l'arrivata in città anche lei? Anche lei ma è lo stesso aereo Perché l'ho vista in aereo Ok Quando è andato nel bagno E' uscito e c'era tutto odore di fumo Ah si perché non mi piacciono i viaggi lunghi Dove non posso fumare Ehi Meno male mi ha coperto il mio odore di sconeggio Sai Io non riesco tanto a controllarmi Giro con un pannolone sempre Io ero qua all'aeroporto Ho fatto piazza pulita Ho visto Ma senta Un po' di sigarette di Duty Free Aspetti Una sigaretta? Si ce l'ho Si E' un fumo da 14 ore Tenga E' quella la sigaretta Ah grazie C'è una anche per me Glielo date in tasca? Che l'ho messa in tasca? Ah una bella sigaretta bagnata Eccomi qua Ah Allora che mi racconta Lei perché è venuto qua? Ma io sono venuto qua per Seguire il sogno americano Ah qua a Napoli? Qua a Napoli si Ah mi fa piacere Io sono figlio Sono figlio di Sono il padre di Carlo Ah magari Conosceva mio padre Come si chiama? Eh Ritenzo Lei è il padre di Carlo? Si Allora conosceva mio figlio Come si chiama suo figlio? Chris Ah qui Come lei? Si Carlo come lei? Si Carlos Junior Si chiama mio figlio Mio figlio faceva il poliziotto Il suo? No mio figlio io ho smesso di sentire da quando Da quando sfortunatamente Ha fatto avanza mia madre Ha fatto avanza suo padre? Si ho notato che non era più un figlio Era un mosso Cioè che sarebbe sua nonna? No mia madre Allora sua madre è la nonna di suo figlio? Si esatto Da lì non sono più andato ai suoi festini a base di cocaina Organizzava dei bei festini mio figlio Da lì Poteva fare delle avanza A mia madre L'ho smesso Suo padre frequentava i festini? Si Mi frequentava i festini di mio figlio Erano in buoni rapporti Ok E lei cos'è che è venuto a fare invece qua a Napoli? Io sono venuto qua per orientare il mio business Ah Si si Quali business ha lei? Ah guardi Sono sfortunatamente Sono stato Sono stato diseredato Facevo festini Facevo festini A base di prostitute E cocaina E Mi hanno Insieme a mio figlio E Sfortunatamente mio figlio mi ha preso tutto Ah è scappato? No Sono Diventato un fallito Allora ho deciso di Venire qua a cercare Con gli ultimi soldi La La fortuna La fortuna Ma quanti anni ha lei? Io 45 anni Ah ok Lei? Ah io sono ancora giove E ho colato tre Mi fa piacere Senta ma vogliamo andarci a togliere questi Questi vestitazzi di rosso Questi vestiti di merda Andiamo Che ci hanno messo qua Ci hanno dato quest'outfit di merda Io ho preso la La prima classe Neanche Neanche un cazzo di kit di scrittura Mi hanno dato Pensavo che mi davano delle armadi Mi hanno dato ste magliette del cazzo Ho pagato 4.000 dollari per stare lì a fare il mio blog Sa sono anche un blog Ah io sono un tiktoker Ah come mio figlio Ah un tiktoker Sì sì Quelli incoglioniti che fanno solo i video Andiamo andiamo Pensiamo alle cose serie Pensiamo a trovare Una bella maglia di cashmere Sì signora Eh ma qua è difficile rubare le macchine Lei conosce un buon negozio dove fanno del buon cashmere Sì Non cashmere di quello di Serie B È il cashmere di quello sa Quello Sì Da parte al Kebabaro qua a Napoli Ah andiamo Lei è una macchina? Purtroppo non ho la macchina Sono fallito come lei Ne possiamo Mi scusi gazzon Oh Si è fatto male Questa città non mi dà mai una cosa Ecoglienza buona Andiamo andiamo Spostiamoci da questo Dall'aeroporto internazionale Che Ha una struttura molto Molto gradevole Cosa ne sembra Lei ci farebbe un Bronx Ci farebbe un bel festino qua io Eh potrebbe Oh Ma lei è una pistola Eh ma non riesco a fare E' finta Potrebbe far paura Come facciamo? Ah questa è To Era il pilota Pilota Ah Ahia ma Ahia ma Ma quello è il pilota del nostro volo Era Era il boot L'ha visto? Venga venga Mi scusi Ha detto i bagagli? Ci avete fatto sforire i bagagli eh? Bravo bravo Mi spacco anche la macchina C'è da questa macchina Via qua Via qua Ohia Basta 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 Non serve che lo ammazzi No devo dargli Non ha capito Aiutami Carlo Oh scusi scusi Andiamo andiamo Non perderà mai più il nostro bagaglio Andiamo Allora Facciamo finta che questa macchina sia la nostra Sono un guidatore Sono un guidatore Guardate Oh Ma Chris Ma la Ah scemi Agenti Agenti Stucchiatevi le palle Agenti Agenti Prendi questa Che testate che gli hai dato? Ma siamo già dei pazzi Chris Sì sì La comandiamo noi questa città È nostra Conosci un po' sto vegano dove posso fare una poca Sì Sempre lì da parte a Kebabar Dove vendono le magliette Le capice di casu Andiamo Oh Oh S'era sbagliata Tutto calcolato Sbagliato Allora Se ci fermano questa macchina Naturalmente l'abbiamo trovata casualmente qua Oh Casualmente qua Sì 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 Lo si preoccupa Ah Se lei può usare Su questo fanno Credo che lei possa usare il GPS Probabilmente Sì Lo metto da parte anche a Kebabarone Mettito 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 Qualsiasi negozio di vestiti Che fanno cashmere Mi raccomando cashmere di pura lana merinos Se non è lana merinos io non vesto È lui Lana merinos Oh è lui Lana merinos Forse una delle mie Top lane Ma anche a lei per caso Il mondo va leggermente a scatti Oh No Ma provi a vider lei Un secondo Ma cosa fa Guarda Guarda Vieni solo un secondo Un secondo Guarda Non si preoccupi Chris Chris Eccomi Eccoci Oh c'è un carissimo wok Dopo magari ci passo a farmi un wok Vi piace il wok Vi piace il wok Non so cosa sia il wok Tipo quelle padelle cinesi che puoi mangiare Che ti danno gli spaghetti con il wok E' la pentola E' la pentola La pentola Ecco Spero che vendano lana merinos Non sei se è el' nome e lato O E' la pentola Sper the salve queste le piace un po' la scaricatore di porto ah vi fa figo oh cosa devo fare ogni volta mi cambiano qua i camerini non capisco mai più niente ok pantaloni come si vuole vestire così non hanno qua un cazzo di pantaloni di cashmere ma ho visto qualcosa dei pantaloni dei centri non ce l'hanno qua scarpe no capelli ciao belli ciao bello ti vedo cazzo va bello grazie piccola chris si come gli pare molto bello ora mi cerco l'ultimo cappello che ci sono arrivo da lei aia che fa lei è io si signor giardone appena arrivato signor giardone sono appena arrivato in città eccomi qua prego piccolo e lei signor grazie canguro grazie a med io sono sono chris piacere lei chiede lei chiede piacere walker walker piacere cialdone ingegnere cialdone ah lei è un ingegnere si 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 non vede e dove lavora la sapienza di roma ah si è spostato fino a qua mi sono spostato si fino a qua aspetti un secondo dottore ah no ok eccomi vado questo come faccio come faccio a salvare i miei vestiti vai su aspetta su guardaroba sono pronto eccomi andiamo andiamo salve andiamo dove io sono andato al singita cos'è cos'è eh sono andato al negozio di vestiti ci sta l'ingegnere giardone e chris l'ingegnere giardone e chris chris sì ma non è che se mi ripeti chris io ti dico un nome diverso stiamo andando al singita nel locale quello eh me ne sono andato per chiederti a fare cose due vabbè tanto c'è giugnere giardone giugnere giardone ciao ciao andiamo a bere andiamo dobbiamo fare un po' di commissioni probabilmente devo cambiarmi le mani un secondo salve signore si senta salve ingegnere io mi vai a fare lo sbirro hai cibo e darmi gratis così puoi andare in giro a castigare il male lul cosa mi scuso non ho capito ho detto salve ingegnere mi scuso ingegnere devo cambiarmi le mani salve 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 ma tu sai che farvi specializzato in salve non abbiamo niente non vogliamo niente non vogliamo niente siamo a posto no 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 è così sicura bubulus no ah ma il nostro amico di prima forse per il cane è qualcosa di interessante invece salve il cucciolo come si chiama giorgio bubulus ah non si chiama bubulus vuole giocare bubulus ah no no bubulus ah cane di merda cane di merda no no bubulus ma perché l'attacca aiuto no lascia bubulus ha ucciso il mio amico bubulus ingegnere mi dica quando lei arriva primo cosa fa esulto scusi c'è il cane sto qua perché c'è il cane no ma non si preoccupi è bubano scusi questo cane non ha fatto i corsi si si ha fatto i corsi ma non so perché va attaccato non attacca nessuno del solito ma l'antitetanica si è importante come no mi sento male da bubulus e quali cascano in capelli a Chris bubulus donna che carattere ciao mi sa che è proprio un fake ingegnere allora allora no no che fake ingegnere sono lavorato alla sapienza con ottimi voti mi dica sono specializzato in ingegneria biometrica ingegneria biometrica ingegneria biometrica si mi dica mi dica lei che sa mi ha fatto in ingegneria biometrica ingegnere ho una chiamata importante immaginavo proprio questo non ho un telefono faccia vittima forse è importante prendere anche un telefono forse è importante anche prendere un attestato al potere di sputtanarlo senza essere nessuno ma ne chi è ma ne chi è ma come si permette di dire queste cose all'ingegnere ciardone ma come si permette ingegnere ciardone sono davvero un ingegnere e come si chiama scusi non le interessa e allora cosa fa io le parlo e lei non mi può parlare grazie a Zecchini ha già parlato abbastanza ho una chiamata che mi aspetta mi scusate potete scusarmi vabbè noi andiamo al Singita ci vediamo dopo dov'è Singita? è Singita al locale sulla spiaggia quello del pontile? ste ok noi io mi sa che ho una chiamata importante e arriviamo comunque se deve fare l'ingegnere si vanti ogni tanto altrimenti la laurea non è valida ok e da un consiglio va bene la proprio con l'ingegnere eh signorina vabbè ma io sono un ingegnere di ottimi di caricatura mondiale eh se ne vanti prima vabbè è un consiglio ecco guardi una cosa a dopo dopo vi faccio vedere il mio lavoro qua è finito da ingegnere ingegnere io devo dargli ancora i soldi del corso ah qual è il corso? è il corso di ingegnere che ho preso da lei ah giusto si mi dirai duemila del corso adesso glieli do quando è che facciamo un po' di pratica? volete fare anche voi un corso? ah oh cercare quelle palle in marcia quando dobbiamo stare così vabbè ragazzi noi andiamo al singita ci vediamo dopo se volete i corsi di ingegneria il dottor Cerdone ingegnere gli do il mio numero se volete e faccio anche con questi i vaccini cizers 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 ma che è un consiglio? non ho capito cizers non so bene conunciarlo cizers 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 ingegnere ma lei ha un numero di telefono? eh no è per quello che voglio andare subito a fare il telefono prima di andare a fare i vaccini se vuole vi accompagno e poi vado al come vuole ho visto che ha già amici in macchina per cui magari vi raggiungiamo noi noi abbiamo la macchina dell'ingegnere noi abbiamo la macchina mia vi aspetto l'ingegnere Mobils eccola qua macchina da ingegneri chris guidi specializzando insomma al negozio oh la mia macchina non è la sua macchina chris scendi come ti permetti questa è la mia macchina è la macchina dell'ingegnere questa qui è la mia è la macchina dell'ingegnere c'è dove? mi faccio vedere un documento questa qui è la mia allora vado a se ne va occhiamo la polizia sono arrivato ah io lo chiamo la polizia ma che fregno? io sono arrivato con questa macchina e quest'ora me la devi dare lei è arrivato a piedi lei è arrivato a piedi vada chris oh ti ho detto che mi devi dare la macchina oh io arriverò di più oh ai cani lei non c'è il trone oh tu sei un cane ok ok ciao oh fantastico mi faccio a strada ma hai i telefoni che è il palazzo arancione le persone veramente squisite ingegnere mi senti? si mi sente? ma devo fare un attimo si fermi un secondo devo fare un attimo una commissione di 20 secondi a città laggiù un secondo no qui qui? si 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 chris eccomi eccolo eccomi salve avevo dei problemi da sistemare oh si è rotto il vetro andiamo a farci questo telefono? andiamo a farci il telefono ma lei me l'ha spaccata questa macchina no c'è un un cassetto davanti a noi ma lo sai che lo sai che lei mi dovrà dare i soldi in maniera anticipata? per cosa? dei danni dell'auto ricordo che l'auto l'abbiamo presa assieme a non legge no è vero allora dove si fanno questi andiamo a chiedere dove si fanno queste scheme telefoniche non sono molto esperto di tablet eh va bene comunque devo dargli ancora i soldi per il corso spero che mi insegnerà qualcosa si 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 ingegnere Cialdone insegna sempre tutto no scusa mi scusa eh cialdrone giardone ingegnere giardone cialtroni giardone eh cialtroni mi piace salve ingegnere giardone con il mio amico ingegnere Chris salve eh buon attimo ragazzi scusatemi mi scuso sto facendo una cosa ah l'educazione è da farsi fottere? babamia se vuole la cerco io sulla mappa ma non so cosa dove cercarli nel gps ve l'ho capito cosa deve cercarli nel gps? lei lo sa? cerco io cerco io andiamo voglio distruggere questa porta no sto cercando sto cercando l'ingegnere Cialdone e il suo assistente Chris vanno in città per fare dei cose che riguardano l'ingegneria quanto è bella la matematica e l'ingegneria grazie piccolo non trovo le non trovo posto cosa cosa Chris? me lo trovo allora Chris e dentro le venga qua Chris le devo dire una cosa importante le devo dire una cosa importante aspetta non sto minando Dogecoin le devo dire una cosa importante come lei sa è l'unico qua dentro che mi chiamo Carlo Cialdone ma tutti mi chiamano ingegner Cialdone io vedo la sua incolumità visto che la conosco secondo me lei si deve qualcuno le deve dare un nome dobbiamo fare questo battesimo qualcuno deve sbagliare il suo nome così avrà un nome un nome che tutti sapranno qual è ma è che è un nome finto ok cosa ne pensa? sono d'accordo se questo fa parte del suo disegliamento del programma va bene facciamolo andiamo e andiamo a farci il tempo che non sappiamo dov'è missione venga dai che dobbiamo poi fare le nostre robe di ingegneria ingegneria Cialdone e il suo compagno Chris vanno per la città vanno per la città vanno è un umano questo signore? no ah andiamoci potremmo metterci mezzo un incrocio è uno zombie salve buon pomeriggio buon pomeriggio cioè è il suo chiedere 50 cents no non 50 cents jay-z potremmo chiedere la foto l'ingegner Cialdone e il suo collega Chris vanno in giro per la città oh è il nome in patris figli spirito santus amin amin non trovo nessuno ah io cerco solo mappa intanto ah cerchi cerchi ingegner Cialdone e il suo assistente Chris ingegner Cialdone l'assistente Chris vanno oh tamponato spero che non mi facciamo il quid il quid costrazione amichevole cosa la faccio? mi tocco il naso oh vedo altri umani abbiamo una macchina un po' lenta però mi piace le macchine oh questo poteva essere un incidentissimo assistente Chris mi dica sto cercando provo ad andare in un posto provo ad andare in un bar guardi a cercare qualcuno va bene ho trovato lo shop chihuahua non so se fanno shiva lo shop chihuahua si può fare li metto il punto proviamo andiamo a questo pub questo cos'è cover shop no ma non sono gli shops divestiti forse qua tutto chiuso facciamo un cazzo di questa città vado seguo il suo indirizzo vi lo rimetto aspetta no no giusto giusto i cialtone l'assistente vanno per la città vanno per la città qualche figuraccio facciamo con degli altri con degli altri personaggi se dovessimo incontrare qualche persona per bene come noi che figuraccio facciamo con questo cattoccio è qua è qua è qua oh ho fatto un piccolo inversione a hooks vabbè ragazzi per stasera è così per stasera è così non è non so che sto a parlare di quanto va male siamo giusti siamo giusti? è questo è chiuso ma lei mi ha portato Chris mi ha portato in una roba di armi pensavo che era qua oh salve qua non credo che compriamo delle sim Chris ah ho sbagliato allora non so quale sia il tuo concetto di sim cards ho sbagliato sbagliato allora proviamo un'altro no ma sul gps quelli con un teschio mi sa che sono delle cose di morte Chris non sono delle cose dove fare dei sim sono delle cose telefoniche dove si fa la sim ragazzi dove si fa la sim tre chris 366 cover shop let's go let's go l'ingegner giardone oh guardate qua olè oh mi scuso mi scuso mi scuso Chris guardate c'è il drone eh shut up siamo giusti? siamo giusti credo mi sa che venga oh signore tutto ok? no oh Chris si fermi si calmi oh ecco giù dai pugno tu hai una forza hai una forza in queste bacce sovranaturale guarda che pagnotella ma mi stai ricordando di Gregor? sono Connor sono Connor sono Connor basta basta Connor vado ma che c***o è incazzare questo basta Connor non va giù io vi faccio un po' di rispettura oh 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 C'è il drone, eccomi Non abbiamo un conto Con Si lasciano le sim, no? Vuoi Sì, ma non abbiamo soldi per un telefono Andiamo a prenderli i sim e poi facciamo il telefono Venga Non è qua, non è qua Chris Dove sono le sim, Chris? Dove sono? Dovrebbe essere qua Forse qua? Qua, qua Buonas dici Una Grazie, piccola Buonasera, signo Fcavlo Buonasera, Mike Eccomi Ecco Non ci sono degli Xiaomi? A posto Possiamo andare? Arrivo, lo prendo anche io Andiamo E gli è il suo numero, Chris Devo inserire la sim Dove riesco a uscire, cialdrone Cialdrone Venga Dove riesco a uscire, cialdrone Eccomi Venga, venga Andiamo Andiamo Dov'è la nostra macchina? C'è ancora? Sì, è là Allora Mettela sim Io vado al molo Ricordi Oh Attenzione, cialdrone Eh, lo so, lo so Allora Io sono cialdrone Te O Conno O McGregor O Chris Però serve che qualcuno Oh, shit Ingegneria Guardi qua Al limite Come la chiamo io Allora Grazie Chris, Conno Qualcuno deve sbagliare il tuo nome Appena sbaglierà qualcuno il tuo nome Avrai anche tu il tuo nome d'arte Perfetto Ciao Marco Ciao Ounque ho messo la sim Ma io sto guidando La metterò più avanti Abbiamo la macchina sporca di sangue Eh, forse loro Salve, buon uomini Vai Chris, presentati Vediamo se è sbagliato il tuo nome Signori Ma sta facendo una rapida questo Ne hai sicuro? Sì Buon uomini Salve C'è il mio amico Oh Buon uomini Oh Salve Dica Oh Forse non è il momento giusto No Non è il momento giusto Salve, salve Arrivederci signore Arrivederci Ok Il mio nome sarà signore Signore? Mi chiamo signore? Signore? Il signor Cialdroni è il signor signore N'è sicuro? Eh, lei mi ha detto il primo che sbagliava il mio nome Beh Sei presentato? No Signore Chris Signore Oh Sto avendo dei problemi Lo vedo Oddio Non capisco Attenzione Dov'è? Mi vede? Dov'è saltare? Dov'è saltare? Ah Le sta laggando anche a lei? Sì Lo riesco a saltare Le va un po' male? Oh Ok Salto Grazie Ma Le va bene la testa? Buonasera All'ingegner Giardone E al signor signor Grazie Riccardo Ah no Non è un problema mio È un problema anche suo Giusto? Sì È un problema di tutti Ah ok Meno male E cosa facciamo Signore? Diciamo Immortalliamo questo momento Con un bel selfie Va bene Aspetti Ah mi dia il suo numero nel mente Prima faccio il selfie Come sono solo io? Oh Mi scusi Sì Ma lei funziona bene la testa? No Solo per fare la foto Sorrida Ma mi viene in rallenti? Ok Gli ha fatto la foto Oh Ma ci sono le foto vecchie Su quel telefono Di mio figlio Della polizia Che cosa sta succedendo? Signore Non vedo più niente io Ah vedi Come non vedo più niente? È tutto È strano Anche per lei? Sì sì È tutto molto strano Ma È normale? Non lo so Venga Ma un po' a rallenti La tua mente Ma tutto un po' a scatti La mia mente Molto a scatti? Boh Tipo non vedo bene L'asfalto È come se fossi allucinato Vuole che gli do il mio numero intanto? Sì sì Fai un po' a vore Ok Quando c'è Me lo dico che glielo dico Che glielo ho detto Eccovi Ma non mi dà il numero Lo so perché Aspetti Chris Signore Prova a fare un check up Arrivò Della mia mente Christian Oh sì Christian mi chiamerò io Mi sente? Sì Perfetto Prova a venire? Mi chiamerò Christian Mi vede? La vedo Lei mi vede? Yes Perfetto Andiamo al club Andiamo a fare festa Allora mi raccomando eh Discrezione Discrezione Va bene No la mia macchina Chris Christian Signore Ho perso la macchina Lasciamola qua Lasciamola qua E se ce ne dobbiamo andare? Eh La spostiamo con le mani Perfetto Sembra una grandissima idea Andiamo Ah mi dà il suo numero Christian? Ah non riesco Non riesco a vedere il mio numero Mi dà il suo Mi dà il suo Mi sente? La sento Mi può dare il suo Non riesco a vederlo? Eh anche io non riesco a vederlo Eh ce lo vedremo dopo a vicenda Andiamo da questi pazzi Salve Salve Come si chiama? Mi chiamo Draken Draken Sono l'ingegnere Cialdone Salve Piacere Ingegnere E lui è? E io sono? Il signore Chi sono io? Eh non lo so chi è lei Mi dica Me lo dica lei Me lo dica lei Eh il signore Dello sguorcio di un orso sul petto Troppo lungo Eh il barbuto Troppo brutto Eh il pelato Troppo da ricco Eh E lui è Conor Conor? Conor McGregor? Sì sono io Oh mio Dio Non lo dica Non lo dica Non lo dica No mi scusi mi scusi mi scusi Mi può fare un autografo Sono un suo grande fan Oddio Oh 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 Ecco Ecco l'autografo Conor Conor Ecco Si sta a posto Conor Ha bevuto un po' Sì ho bevuto Ho bisogno un po' di acqua Conor Conor E' Ingegner Conor Dias Buonasera 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 Che tal'è stata hermano? Oh no Io arrivo al buonasera 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 anche a lei Ingegner Cerdone Conor Ingegner Conor Ingegner Conor Lei cos'è che fa mi scusi? Ingegner Cerdone Ingegner di cosa? Biomeccanico Ingegner Cerdone Quindi lei è un esperto Studiato nella vita Si Sto faccio l'ingegnere Scusi mi staranno le spalle Vi da un po' fastidio Sono Conor Ha ragione Ha perfettamente ragione Conor Grazie Ma Conor chi? Conor Signor Conor Conor punto Conor punto Ingegner punto Ingegner punto Le piace? Un bellissimo Ma signore Ma ha un pavaglino lunghissimo lei Si La disturba il mio pavaglino Assolutamente no Ognuna è libera di ottersi come Più gli pare e piace Le farò schifo i miei pantaloni signore Discutibili Ingegner punto Bi dica Sono Conor io Conor punto Bi dica Andiamo Andiamo Occhio Occhio Conor Occhio eh Oddio Ma che cazzo fa? Ho sbagliato Mi scuso Mi scuso No Conor Posso sbagliare Anch'io? No Conor Sei arrivato un po' A fa' culo Conor Venga Allora Noi abbiamo trovato Un nostro amico Il signor Rampino Rampino? Un cane di nome Rampino Se lo ricorda? Con chi parla? Non so con chi parla Con voi Con me? Come si chiamava il cane? Rampino Punto Rampino punto Rampino punto com No Punto Il signor Ingegnere punto Il cane Non lo Conoscete un cane Un certo cane Si chiama proprio cane? Cioè non ha un nome cane? No è un cane Non è un uomo Ah un cane Che si chiama cane? No un cane Con un padrone Però mi ricordo Il nome del cane Così ce ne fosse uno Mi scusi Il nome del padrone Come? Bubolo Bubolo Cioè il padrone Si chiama come un cane In pratica Questi non sono Problemi miei Ovviamente Ah no no Nemmeno mi è Conoscete un certo Bubolo Bubolo Scritto proprio Bubolo L'ingegnere Bubolo No non è ingegnere Venuto con un ambroghini Con una ragazza Dai capelli blu E dovevo incontrarci A uno Una ragazza Con i capelli blu L'ho vista prima Forse Con un ambroghini E che se lo ricorda Boh Bubolo Non ne ho idea Bubolo Ci aveva invitato Il signor Bubolo A prendere parte Ad un aperitivo Però Non sappiamo Dov'è il posto C'è un locale Questo non è un locale Si si è un locale Deve A me ne dobbiamo andare Il barilla Può entrare A fare il pontile E la c'è il locale Come si chiama il locale Luxor Luxor Quindi sul pontile Si può entrare nel locale? Certo L'altro locale C'è un altro locale? Vanilla Vanilla Sigita Vanilla E basta Al Sigita dobbiamo andare Non al Vanilla Vanilla S'è cantata Il signore Al Sigita Mi sentite? Si Guardi Lei prende Esce da qua Al Vanilla Ingegniere Al Vanilla Allora il sigita è proprio di là Allora il sigita è proprio di là Lei proprio esce Ma a destra Fa 200 metri Ed è arrivato C'è il sigita è proprio di là quando si mette il casco il cinghita aspetti aspetti è qua il cinghita questo è il cinghita esatto entriamo col cinquantino faccio la super curva c'è uno che scappa occhio che siamo in autostrada col cinquantino no 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 non così mi scusi mi scusi sono Gregor io ah no scusi sono connor Gregor parconci qua parconci qui mi scusi poca doia mi ha scacciato la scappa scaccia figa anche eccoci arrivati è su questo motorino glielo regalo no non lo voglio la vittoria rubato come a Napoli come a Napoli ma qua siamo a Napoli dai glielo regalato lo regalato sono buono bello sono buono bello conosce un certo Bubbolo Bubbolo no non lo conosco chi cazzo Bubbolo 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 mi chiamo Kairo mi piace io mi chiamo Mac ecco Mac Mac Gregor no Mcdonald ah ok mi hai inventato un Mcdonald io sono l'ingegnere di Cerno ingegneria ingegneria insegno telegram capisco senta mi può far vedere il green pass non ce l'ho sono onesto allora chi ha la pulizia no la mascherina vede ah se mi può mi può far vedere vuole susseguire un vaccino da parte del via no 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 in me così una clinica specializzata no no mi fido mi fido sulla parola però non volete non volete non volete non volete aspetta aspetta ma ingegneria giallogno andiamo a prendere qualche cavia per il vaccino tipo le ragazze che ballano lì vado a prendere le ballerine sono molto provenze ai vaccini va bene andiamo vai 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 andiamo alla pista certo Carlo doveva trovare qualche metodo per fare due switch con i soldi per il vaccino cosa non lo so signori salve sono ingegneria ingegnere io sì salve ingegnere in che cosa mi scusi ingegnere cerdone ma ingegnere quale ingegneria ingegneria la figa ah ok complimenti quindi ho capito che lavoro fa ragazzi tutti voi tutti voi oh ragazzi mi sentite toglietevi le scarpe rimettetele tutti tutti voi in questo gruppo e rimangono anche quei figli di fuori non c'è problema me lo giuro ok ecco qua aiuto andiamo dobbiamoci al drone allora ehm se lei scusa caro vieni qua ho il piano ho il piano ho il piano allora sentiamo prendiamo una persona con la scusa prendiamo il numero buonasera buonasera stiamo facendo un meeting l'ingegnere cerdone lei è? io sono metto per tardi no guardi mi ero un attimo ho interrotto questo meeting solo per dirvi se avevate una cosa di soldi o qualcosa da mangiare che ho il pupo a casa e non ho mangiato due giorni ma che lui ha capito i soldi? eh ma a me si parla con questo di un pupo capisci ma questa storia la storia del pupo è vecchia signore eh non è ma storia del pupo è vero purtroppo il pupo il pupo devi andare a lavorare a lavorare il pupo deve fare soldi a lavorare a due anni hai fatto otto lavori signore il pupo può andare in assistenza vabbè grazie mille comunque mi saluti il pupo arrivederci beh ecco riprendiamo il meeting allora potremmo portare qualche qualcuno qualche persona che troviamo lo potremmo tranquillamente oh ci stanno rigliando eh si andiamo a pilotare aspetta 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 possiamo presentarci come vuole come vuole che la chiami mi chiami Connor qualcuno ha richiesto l'intervento dell'ingegnere Cerdone e dell'ingegnere Cono no grazie sicuri sicuri ho ricevuto la chiamata dal mio superiore no 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 parlare col direttore del locale ci manda mezzogiorno oddio che cosa chiedeva a mezzogiorno ah lì venga un attimo ingegnere si arriva ingegnere ho uno strano ricordo che non posso dire mi dica ho questo questo flash nella mia mente di questa persona che non pensavo che esistesse ma in realtà a quanto pare qualcuno la conosce esiste davvero non era solo una leggenda diciamo una leggenda in realtà è qualcosa che che esiste andiamo a cercarlo se esiste davvero no no siamo troppo ingegnere siamo troppo siamo troppo luobi serve sempre trovare la prima la prima vittima della nostra truffa lei commende il fare questa truffa allora andiamo fuori da qua questi ci hanno sentito secondo me andiamo fuori ci serve una macchina e ci serve da portare qualcuno dobbiamo portare qualcuno dentro la macchina a fare questo questa laurea di ingegneria questo vaccino e poi una volta ha entrato in un piccolo bosco lo picchiamo per darci tutto ah il percetto perfetto vai va bene mi deve leggere il gioco si 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 trovi qualche qualche vittima salve salve signore come va tutto bene lei è lei che ha chiamato l'ingegnere cialdrone no è per quell'affare l'ingegnere cialdrone ecco cialdrone l'ingegnere cialdrone per l'affare da mezzo milione che affare è l'affare che dobbiamo concludere che lei prende i soldi ho questo con chi questo questo ho questo vaccino ah il vaccino per cosa puoi venire mi posso fare una dose oh che dose no niente fatti cazzo tu hai no ma salta grande che gente dicevo dicevo sono ingegnere abbiamo con l'ingegnere con ingegnere con ok e di cosa si tratta questa dose si tratta di una di una dose segreta che ho sviluppato non possiamo farlo davanti a occhi a quei tanti occhi andiamo andiamo a farci un giro ma lei è una macchina se dovrebbe stare lì il parcheggio allora mi aspetti al parcheggio che prendo prendo la nostra macchina vai vai ci troviamo al parcheggio si ti aspetta là figura si si andiamo a prendere il mio bolide andiamo a prendere il mio bolide e come come facciamo cosa facciamo adesso e non mi sembra anche un po' paroloso lui siamo sicuri non lo so vabbè paghiamoci paghiamoci vabbè andiamo lasciamo un po' tutto il caso andiamo abbiamo il motore buonasera buonasera salvo dottore venga ingegnere è la mia moto grazie benvenuto si ma non stavo consumando io non consumo mai ecco lì oh Bubu lo sono adostati mi senti questo ci sono i ragazzi di prima eh lo so apposta ti stavo a cercare ci sono i ragazzi di prima sentili sentili Bubu andiamo a salutare Bubu ma dove stai? andiamo arriviamo dobbiamo salutare Bubu conosce Bubu? no pensavo che hai preso a te io sto ecco te cioè no Bubu ciao Bubu ingegnere Bubu eccoci bene bene stiamo a vedere la situazione qua signore mi ha rubato la macchina lei è la mia amica toy signore signore con i capelli blu pon salve ingegnere cerdone se non abbassa la voce che ce la sentono tutti lo dico per la sua ma tutto adesso vai il parcheggio insieme amico kris ecco buonasera شire signorina lei è la signora che mi ha dato il passaggio prima con l'auto arancione giusto sì j l'ho parcheggiata qui l'improvviso scomparsa no 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 l'ho messa in parcheggio al parcheggio qui 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 ho detto se la signora ricompare la ritrova qui però ora non la vedo più comunque grazie mille se le faccio di qualcosa al bar a disposizione perché parlare di discorso davanti a noi eccoci volevamo sapere se ho già incontrato il signor bubolo lei ciao ma io non so bubolo e si è presentata come bubolo lei è il signor walker walker ci vuole ci vuole seguire walker come volete noi dobbiamo fare un ascolta come volete piccolo 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 io andiamo ancora c'è il cappuccino gigante come volete un po' come ragazzo l'antimo di acqua da mangiare bellissimo che è una meraviglia della natura hai capito dottore 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 no ingegnere ingegnere faccio ammazzare ingegnere direi troppo bello aspetti qua non capisco mi faccia vedere il suo laboratorio con chi dobbiamo andare con il bubolo o con lei un po' come io so walker con walker walker la seguiamo e io so thomas space che dovete che dovete 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 andare doveva fare una cosa con questo ragazzo che ti presento ciao piacere ciao cena che devi fate è bello jake niente vado la macchina walker con il suo acqua ma non è questa è la quarta non è la quarta no allora che è il senso di più noi dobbiamo andare con walker e con conor assolutamente e con questo posto per svegliere la macchina non ha chiamato non lo so per svegliere acqua carini ma credito carini questo carico si chiama il ciccio e si chiama ciccio e regala un cane che è aggressivo buonasera il cane di agenzie il cane sta andando da mangiare si è messo a credere quel cane buonasera è un salone signorina chi è il proprietario del cane buonasera sai che devo spostarmi, ci sono fagente in questa zona chi è il proprietario del cane? io ancora è arrivata una chiamata il cane che ha carito qualcuno ha seguito ecco io ho fatto io mezzogiorno a farti la segnalazione vedi che tranquillo vedi chi è che ha fatto? chi è che ha fatto? chi è che ha accreditato del cane ci sono i testi lei ha fatto la segnalazione lei come si chiama signore? io mi chiamo francesco che ragazzo è andato facciamare ci stanno loro che hanno visto tutti hanno visto hai visto che c'è? sì ma chi è? io io non era un sogno ah lei ha dato una pizza al cagnolino è normale che l'aggredire mi ricorda bene ma cazzo ha parlato solo la voce ma se non togli ha abbassato un po' la voce li sentono tutti ah ok mi scusi ah eh sì è quello che volevamo fare salve no no ma proprio attaccato che cazzo ma proprio attaccato salve 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 eccomi sono qua ma che cazzo vuol dire ma che cazzo ma gli metti qualcosa alla bocca se credisci chris vediamo in mano di lei no c'è troppa gente c'è troppa gente provate a carezzare il cane vedete che è buono ecco è buono il cane posso dire una cosa ingegnere dica dica c'è troppa gente siamo qua da un bel po' e non abbiamo ancora concluso niente infatti prendiamo un mezzo di rappresentanza prendiamo un mezzo di birra prima eh va bene agente salve non buca eh scusate eh ma non ecco via pezzi agente oh grazie mille è bello grazie mille per il ciclo niente ho una birra che cazzo hai bisogno agente una birra e una... si sono io una birra e una mano una birra e una macchina per favore no 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 cos'è che ho fatto una birra è... una birra alcolica agente agente si mi dica prego una testa e una mano c'è non una mano un'acqua e un hamburger grazie un'acqua e un hamburger a testa quindi si si grazie salve agente salve 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 agente piacere agente piacere agente piacere agente imparino un'acqua per favore buonasera buonasera come... come va? tutto al posto ingegnere cialdrone piacere come si chiama lei? connor ah non dottore ingegnere cialdrone ingegnere cialdrone ah ingegnere cialdrone come è? cialdrone ah giambrone no cialdrone 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 ma cosa di? cialdrone ah cialdrone esatto lei eh? io ho piacere mauro mezzogiorno agente di polizia piacere mauro ci faccio la fattura di voi due senta mauro si mi dica sono un ingegnere e anche un biologo mi occupo anche di medicina arrivista e futuristica se dovesse avere qualche situazione che serve un biologo o uno che si occupa di vaccini psizer io potrei fare a caso vostro un medico perito in casi forensi ah certo certo un piacere compiere anche perché abbiamo alcuni colleghi che secondo me sono geneticamente modificati ossia delle scimmie quindi farebbe comodo ah perfetto perfetto lei conosce l'origine di questo? grazie a lei no onestamente no dovrebbe essere più lei di me lei è il biologo non io no no perché so che esiste un siero che fa diventare più potenti le persone le modifica comunque ah che tipo di siero si parla mi dica e qua signor dimmi tutta cosa signor potrei avere mezzogiorno mauro devo dire che uno e uno sono informazioni dedicate che voglio vorrei magari collaborare per qualche doubt per questo e invece lui è il suo collega si si sono io sono il collega con tutto il rispetto però la vedo rispetto a lui che è molto più professionale lei si è un po' disastrato ma per quale motivo va sotto copertura io allora faccia la copertura è più scoperto di così eh ma mi sta mi sta prendendo in giro lei no no io parlo della velocità dei fatti ok ti ripasso subito comunque lo so perché io l'ho già sognata lei eh a me mi ha già sognato? si e anche io ho sognato vagamente di dpi come voi ma tanto tempo fa no no si è risettato tutto il server ragazzi tutto ha risettato anche me ah è un tipo dei dei Yaku comunque eh io lui ho fatto il corso di laurea perfetto grazie mille all'ingegnere attaccato siamo colleghi ma di ingegneria io ritorno del mio del mio laboratorio se non dovesse andare da fuori di ingegneria ho conosciuto due tipi come voi che lavorano in polizia tanti tanti anni fa se volete non apriranno i bandi siete benvenuti servono sempre due mani in più ah perfetto purtroppo grazie oh ingegnere vai dammi arrivederci 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 mauro arrivederci ingegnere eccomi ma questo giro ce l'andiamo a fare o no? scusa mi sono interessato si 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 ma ho parlato guardi non lo sa che c'è questa in realtà le posso spiegare meglio adesso venga qua ha dell'acqua si e del cibo ha uno sprint bene ve lo dire allora praticamente ho parlato con mauro mauro chi è mauro? mauro mauro mezzogiorno ah ok io lo chiamo ah lo vedi lo vedi venga venga mi dai una grassalla per forza venga Chris grazie piccola grazie camus ah Chris ho trovato ho trovato so più cose so più cose oh ma è morto? è morto ma la cosa viene? oh oh signore tutto bene? è morto è morto stavo sparando eh ma c'è uno sparatore in corso abbassati abbassati ingegnere possiamo fare di noi possiamo fare di noi i parceri vi stai vedendo dove ci sono gli spari no com'è che interveniamo? interveniamo con la nostra dialettica che ci ho sempre contraddistinto ma più che altro cosa facciamo con il ragazzo? ma il ragazzo chi è che l'ha ammazzato? non lo so è morto è morto dietro di noi mentre attraversata è morto perché aveva fame gli ha sparato oh mi scusi dottore qui c'è una persona che perde sangue sono un ingegnere non è un dottore ah un ingegnere medico si è un biologo ah ma c'è un signore che perde sangue non può fare nulla a lei eh io suglio gli animali e i fossili faccio qualcosa ah mi scusi allora volevo disturbarla no no è solo che avevo paura perché il ragazzo stava dietro di noi dice che è stato il cane ma adesso si è sparato il cane ah si 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 ma ho sentito degli spari ho sentito degli spari pensavo che fosse sparato no 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 non si figura non credo sia stato il cane eh no c'è un signore che perde sangue lì giù e dice che è stato il cane eh ma io sugli fossili e i granchi cosa vuoi? lo vuole da me? ingegnere mi scusco oltre un attimo minchia come l'ha detto ma non mi potete entrare è ancora qui te il nostro amico era se aspettiamo un altro poco diventa fosse del locale che dici? ingegnere io ho un amico un senza tetto buon ragazzi beh in sacco buona fortuna lei sicuramente è una persona di cultura non può aiutarlo ma chi? si è l'unico senza tetto che è là è il gazebo ah è la sua il gazebo? no lui abita sotto il ponte sotto il ponte di qualche ponte non so quale ah venga mi farebbe molto piacere farli da cavia eh magari se le date i soldi le fa da cavia si potrebbe essere meno presenti venga venga è là dietro e noi c'è un altro mio amico qua motto non posso lasciarlo qua e lo portiamo lì ah ok mi scusi cerca cavie per caso? andiamo? si cerco cavie ah beh e quanto paga per le cavie? glielo dico subito venga qua che è un posto un po' affollato questo oh si si prego venga venga signore quello la con il cappotto giallo che sta muovendo lo vede? probabilmente lei chiederà dei soldi si si c'è anche l'ingegnere Chris qua dietro ma dov'è? io non vedevo nessuno mi scusi ma è andato via ma è andato via con il corpo? eh si la giusta andando verso la spiaggia mi sa l'ha scappato col corpo? ma questa è una cosa gravissima eh si assolutamente è il futuro di cadavere venga venga vabbè io le parlerò di questo progetto forse lei ha conoscenza lei fa parte di qualcosa? no guardi io viaggio per lavoro quindi vado ed esco dalla città ah perfetto perchè noi qua siamo anche se non sembra il signor Gregor con l'ingegnere siamo delle persone a posto eccoci eccoci no ma si vede ha una bella divisa eccoci la ragazza è questo qua la ragazza è questo eccolo salve salve ragazzi qua faccio le cose per bene e non scherziamo salve io direi la verità io sono un barbone ok? direi di presentarmi ma devo chiedere i soldi non è sì piacere io mi chiamo Jonathan salve Jonathan salve Jonathan io sono Connor Connor io sono Cardone Cardone piacere è Steve Galaxy Steve Galaxy wow che signore hai fatto il nome eh grazie e quindi cosa cosa dovrei fare? non ho capito allora hai bisogno soldi allora fatemi 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 finire il discorso allora con con il mio sono arrivato faccio il preambolo siamo arrivati da poco in città e ho fatto la conoscenza di questo bravo bravissimo ingegnere con cui ho fatto ho fatto il volo ho fatto il volo in città mi hanno lasciato mi hanno portato qua a lavorare ho un ho un piccolo laboratorio ho un piccolo laboratorio di ingegneria il bioingegneria e parlando un po' con la con la polizia stiamo indagando su dei casi su dei casi abbastanza importanti ok perché ci sono dei sieri dei sieri che possono possono influire le persone e cambiare il loro fisicità la loro psicologia dandogli anche poteri e e altre cose stanno per cui noi vorremmo abbiamo chiesto prima al nostro ragazzo al nostro amico volemmo piano piano iniziare a sperimentare per cui siamo ancora cerchiamo chi fa questo e noi ci proviamo se avete visto qualche scimmia qualcosa qualche essere sano in città ecco vorremmo vorremmo fare dei test a riguardo da ingegnere ovviamente ah perché no perché no ah quindi vi serve gente che fa per fare i test sì esatto esatto delle cavie delle cavie se qualcuno vuole fare un piccolo guardi noi facciamo tutto all backs facciamo tutto un po' così sui under the table quindi se volete questo possiamo fare un piccolo un piccolo mercato di di esseri umani eh io diciamo che di mercato non è che me ne intendo tanto dire la vera ma infatti stavo dicendo a questo signore se volesse fare un po' una sorta di commercio di esseri umani oh ma chi ha il piccio che ha a terra? no no ha il ragazzo con l'occhiato no il ragazzo che ha a terra è il nostro amico che sta lì sì che sta pensando un po' perché no? perché no? è stato sbranato è stato sbranato è stato sbranato ok però la gente ovviamente ci servirebbe viva ah ecco perché eeeh quindi spesso 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 ok ok no c'è la polizia no la polizia guardi io voglio fare questo a me servono cavie con la polizia poi ovviamente mi vorrei dare il risultato esatto del cielo per cercare di aiutarli contro questi mostri quindi vi servirebbero delle persone servirebbero delle persone sì potrei conosco un sacco di gente in città e riesco a parlare con tante persone potrei provare a parlare con qualcuno se vuole proporsi ok ok ovviamente queste queste cavie queste ve le hanno pagate ok ma mi verrà dato un compenso a me se mi trovo delle persone cosa? mi verrà dato un compenso se io trovo delle persone che ando a portarmi certo certo oddio di quanto si parla? eh questo io devo parlare con l'ingegnere McGregor sono dati riservati ah eh potrei potrei provare non ti assicurare niente perché ovviamente la gente si scaga sotto a fare delle robe così capito? vabbè ma guardi lei basta che dice che il signor McGregor le dà un pugno di soldi eh si esatto accettano poi noi abbiamo un piccolo laboratorio in campagna dove facciamo le nostre cose bella la campagna è tranquillo sì sì non è che perché così non si sentono le urlate le persone che stanno dentro infatti lei è stato proposto da un suo amico che dovevano pagare il suo amico non lei scusate un attimo andiamo a rifiuti qua ma è ingegnere ma che è successo? ho capito che non c'è una riva non è che voglio un braccio in fronte cazzo che è successo? io ho aperto gli occhi o no? no è successo che stanno però stiamo discutendo di di traffici da farlo no a me cosa è successo vuole ripetere? sì sì ok ora ho capito meglio era il fatto del siero giusto una cosa così una domanda per precisare con un mio amico qua queste cose così e potrei provare a trovare qualche persona se riesco non posso assicurare niente già come ho detto magari poi ne parlano con voi spiegate voi allora che ne dico? perfetto perfetto per me è un sì allora io vi lascio il mio numero ok 799 8246 aspetti aspetti come la salvo? c'è anche il giusto 555 carazone sì sì certo ingegnere ok 555 799 ragazzi buonasera a tutti 6 6 478 mi dica mi dica mi dica mi dica ma che dire un paio di pasticca a capo stasera così movimentiamo un pochino la serata guarda stiamo parlando di lavoro sono ingegneri mi scusi non ho capito di cosa stavate parlando di lavoro eh pure il mio è il lavoro vento pasticca vabbè pure il mio è il lavoro io piedo le le mosine in giro le persone non è che avrebbe un dollaro per me per favore sono troppo povero vorrei parlare in privato con il signore con gli occhiali mi dica vieni qui vieni qui mi dica il numero cardone ok perfetto devo parlare cardone mi lasci il numero che trovo delle persone la chiamo eh chiede agli altri ragazzi che non mi ricordo che cazzo 555 796478 ingegnere mi dica mi dica dobbiamo parlare un attimo privato io e lei e ingegnere se vuoi parlare di algoritmi possiamo parlare dopo ok ora parliamone dopo comunque eh c'è il nostro amico che volevo provarlo come dimmi il numero scusami 6 7 9 6 4 bobby che ridere 6 7 9 6 4 7 8 5 8 8 10 10 11 11 12 12 12 13 13 12 12 12 13 15 15 17 15 18 19 19 21 21 22 22 22 23 23 23 23 magari in caso trovo qualcuno sapete dove potete provare secondo me all'ospedale sapete quanta gente porca puttana ma questo succedendo qualcosa sì sì ma ve lo voglio parlare con loro grazie ragazzi a dopo vorrei parlare con i tre ragazzi come con lei e tra pochissimo devo confabulare con di queste altre persone con il capellone aspetta qua tutto ecco allora mi sente sì lei com'è che si chiama da steve galaxy steve galaxy lei vuole provare a fare tanti soldi perché no lei ha qualche diciamo nel caso qualche qualche sistema qualche me no ma ma qualche diciamo qualche attrezzo da non ingegnere al momento no però potrei vedere come recuperare ma qualche attrezzo soft si soft soft molto soft softissimo perché vuole portare vuole provare a portare questa prima cavia per poi dovrei provare a testare che rischio rischio non si preoccupi rischio se ne pensi ingegnere frissi per me va bene poi dovrò parlare in privato una cosa che vorrei dire su lei però però non si comunque lei più avanti se ha conoscenze può può diciamo donarci delle persone allo scopo della scelta certo perché non perché lei è una macchina e al momento dovevo acquistare ma sta tutto chiuso ma lei è un barbone in realtà viaggio quindi vado su affitto in leasing chris ingegnano chris mi allontano questo sembra un due coni ma è un barbone allora devo andare un po' più lontano ci sentono qua allora ingegnere io ho un super rispetto per lei e tutto però non ho ben capito lei cosa vuole fare voglio truffare la gente ho capito vuole prendere la cavia per fargli far cosa per portare nel bosco e per rubargli a inizio i soldi e poi si vedrà a un barbone e infatti non pensavo fosse un barbone non un barbone ovviamente non quel ragazzo lì infatti serviva quel ragazzo che poi è morto col cane che sembrava comunque un po più inserito nel mondo ok ci millantiamo per di far diventare ricca la gente però li derubiamo in realtà grazie piccola non ci millantiamo fallo fuori grazie a noi praticamente millantiamo di dare un serio un siero che fa superpoteri e poi li stordiamo e li rubiamo le cose ok come ne sembra come piano ingegnere sembra buono sembra buono poi possiamo chiedere dei riscatti per farlo ritornare vivo ok ok per farlo venire a prendere allora va bene ho più vero capito va bene proviamo proviamo vuole andare vuole provare a fare io e lei però noi abbiamo solo la forza dei nostri pugni vuole provare a avvenire l'altro barbone che così siamo in tre però è abbastanza rischioso eh aspetti che mi devo uno splits ma allora vuol dire che dobbiamo dirglielo l'altro barbone cosa ingegnere vuol dire che l'altro barbone deve sapere l'altro barbone quale barbone ma è lei che hai parlato di un barbone allora facciamo solo io e lei e la vittima esatto allora lei mi tiene mi va a fare le pr io prendo la macchina cos'è che faccio io le pr e fa le pr personal relationships ok mi intratiene i ragazzi senza che se ne vanno ok racconterò qualcosa esatto e poi dica che sto arrivando con l'auto velicolo va bene va bene va bene a tra pochissimo sembra la macchina dei cattivi a fantastica a magica dov'è ingegnere ciao ciao grazie piccola grazie lari salve salve stavo aspettando degli amici eh sì puoi gentilmente tu le chiedo con gentilezza di evitare di dire certe robe davanti alla mia ragazza no per piacere questione di rispetto mica vengo a dire la tua donna magica eh dai va bene va bene a fantastiche a bella a a fantastic eccolo è arrivato con la sua super auto eccoci ingegnere aspetta che non vengo bene no bella complimenti ok cosa facciamo prenderci il nostro amico prenderci il nostro amico prego prego allora lei è una persona molto simpatica galaxy anche lei grazie mille però mi sembra una persona molto povera che non può fare a caso nostro mi sembra più un peso in questo momento ah beccato comunque ho sentito che c'erano dei test si potevano fare dei soldi ho chiesto per questo lei ha dei soldi si però lei non ha bisogno di soldi beh pochi ne ho ne vorrei fare molti di più ovviamente come tutti eh ma io sono un ingegnere no non sono un dottore signore sono un ingegnere ingegnere c'è un problema c'è un problema ingegnere mi dica sanno litigato con Walker perchè eh non lo so eh c'è un piccolo misandestending vedrai tutti e due si non lo so come si dice no no ho detto benissimo non lo so si si dietro il bano ha fatto così ah taxi 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 salve porta m ma vada vada sai che sul camel si si vado vada vado in mezzo galaxy venga in mezzo vado in mezzo Aspetta, spostati un po' indietro che magari c'è il ragazzo con la ciospa che... Provi, provi. Mi sa che si è atrofizzato il muscolo. Galaxy! Mi prende un braccio. Adesso per te lo so, Galaxy. Scusami. Galaxy! Sì. Utilizzo il muscoletto per entrare in mezzo. Eh, non ricordo. Guardi, mi sa che ho sbattuto la testa. Sitcarer, slash, eh, sitcar. Ok, ecco qua. Sì, la testa al GPS, grazie. Me la conosce il sito di inizio, il sito al GPS. Ha il GPS. Ma, ingegnere ha messo il laboratorio nel GPS. Sì, sì. Andiamo al laboratorio direttamente, va bene. Sì, sì, sì. Me la fa alla fattura? No, no, tutto in nero. No, no, tutto in nero. Perfetto. Salve. Costa meno, sennò che la fattura è mille a persone. Come, scusi? Ah, qua per uscire. Da qual è che hai fatto i tassisti? Eh, da un po'... No, oggi pomeriggio, buon uomo. Ah, beh, tu? Ah, quindi siete veterani. Eh, veterani. Lui sicuramente da oggi. L'ingegnere Cerdone, girano in città su un taxi giallo. Voi signori cosa fate in città? Ingegneri, invece, ingegneri. Siamo ingegneri. Io investigatore privato. No, addirittura. Eh sì. Molto interessato, eh. Grazie, grazie. Diciamo che è una compagnia che si è creata molto, molto randomicamente ad una festa. Voi cosa ci fate in due intanzi? Noi, allora, lui è il tassista, quello che lui dà. Io sono l'intrattenitore, diciamo, dei clienti. Ah, ci intenderò, facciamo solo. No, diciamo che parlo col cliente, insomma. Interprete, cioè, i... Come dire, interloquio con i nostri clienti, insomma. Per capire un po' di cose, visto che siamo nuovi. Esatto, esatto. Tipo, tassista, mi dica una barzelletta. Insomma, non proprio, diciamo. Però il problema è che qua si guadagna meno di una miseria se vi splittate in due le lance. Ah, vabbè, ma quello alla fine è tanto per far divertire anche le persone. Basta che si mangiano, va bene. Esatto. Ma voi avete già visto i corsi dell'ingegnere? No. No. E io vi consiglio di acquistarli. Dove si acquistano? Ah, sì, siamo appena arrivati in città e abbiamo scoperto che io e Chris Condor, scusatevi, siamo entrambi ingegneri e ci stiamo un attimo... Ingegnando. Oh, che macchina! Ma che tipo di ingegnere siete, se posso chiedere? Ingegnere biomedico. Ah, figo. Avevo mio cugino che era ingegnere biomedico. Eh, è una bella doti, sono anche biologo. Biologo marino, mi occupo dei fossili e dei granchi. Interessante, interessante. Fly me to... Faccio anche il cabaretista da tempo perso. Fly me to the moon. Let me play among the stars. È pieno di doti questo ingegnere. Come è il suo doto? Ingegnere, mi canterebbe il suo cavallo di battaglia, quella della città. L'ingegnere, c'ha il dono e il suo amico ingegnere Chris, vanno in macchina per la città, la tutta mia la città. Un deserto che conosco solo, me ne vò per la città. La 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 la... Ma qua no, il cabaretista! Comunque è uno spettacolo, è già... Ah, sì, ah? Se devo fare qualche festa in qualche locale, la invito volentieri. Ci inviti? Sì. Qua sulla sinistra... Dovete fare una quarantina di minuti? No, 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 non ho capito, mi scusi. Mi sono male per i 40 minuti? No, una trentina, una quarantina di minuti per un pezzo, è il classico del cabaretista. Ah, volevo chiedervi una cosa di ingegnere. Cosa facciamo? Entriamo nel laboratorio, ci facciamo aspettare dal taxi e paghiamo anche il ritorno? O ci fermiamo qua e lo facciamo mandare via? No, allora io farei una cosa, guarda di... Se volete vi lasciamo il numero, così appena avete bisogno... Esatto, se mi lasciate il numero, però, vi posso seguire con una macchina che così almeno poi possiamo andare via? Sì, sì, sì. Oh, aspettate. Attenzione. Qua sono tutti iniziali, aspettate. Salve, buon uomo? No, 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 no. Manca un ingegnere. Attenzione. Venga! Ecco. Ecco. Prendiamo l'ingegnere, eh? Eh sì. Mi sa che sono rimasto incastrato, non riesco più ad uscire dall'auto. Oh, ci inseguiranno adesso, eh? Ti aspetti questo? No, ma se fico, io da qui non mi muovo. Ah, se devi mettere il freno a mano, me lo dica. Grazie, Adriana, grazie, Adriana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti per la perdita, per la perdita. Grazie, Adriana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, ragazzi. Don't worry, don't worry. No! No, 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 no. Se ci muoviamo, cadiamo. Se ci muoviamo, cadiamo. Ok, perfetto. Ma anche doti da... Vada, vada, vada. Ecco! Che grande, ingegnere. Ehi, ingegnere! Qua bisogna purvivere di qualcosa. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. A fare cosa. Pensavo che era la loro parte. No, erano simpatici, però ha detto, dovrebbero fare qualcosa. E ha detto, il taxi è sempre un taxi. E poi ne avevamo i soldi per pagare. Esatto, quindi adesso, oltre al danno, la BESA. Ecco, questo è l'ingresso del laboratorio. Ah, automatizzato. Sì, andiamo indietro, andiamo bene indietro, non facciamo vedere il taxi. Grazie, ve lo modifico, andiamo... Grazie, Adrian. Grazie per la stagione. E infatti i signori avevano paura di non vedere più il taxi. I signori? Sì. Ehi, non lo vedranno. Eh, se non lasco di bere, no. Ehi, un attimo di ricordarmi. Oh, oh, attenzione. Ok. No problem. No. Lo rilascio delle tracce. Eccoci. Questo lo devo ancora comprare, eh? Scendiamo? Benvenuti a casa mia. Mi sono incastrato, come... Deve premere T slash E sit car. L'abbiamo acquistato questo posto, come no? Eh, niente, non riesco a uscire... Ma venga, Chris. Questa storia ha dei risvolti fin troppo drammatici. Lei non riesce a uscire? Eh, no, mi... Hai fregato. Ci ha fregato. Ma quanto vale? Ci ha fregato, beh. Mi sa che dobbiamo... Dovremmo fare una cosa... Una cosa da avere in più grave. Attenzione. Salve! È morto, dite. Ma lei è ancora lì, ma non è il gioco. Ecco. Sì, sì. Ok. Ingenier Chris. Hai la mente un po' a scatti? Ingenier Chris. Eh. Non avrei mai voluto fare questa cosa, ma... Siamo... Costretti. Siamo costretti. Grazie, piccola. Facciamo. Cosa? Grazie, sacco. Non si preoccupi, lei. Non si preoccupi. Ingenier Chris, mi riprenda col suo videofonino. No, lo devi... Rimaga qua al benzinaio. Mi riprenda col suo videofonino. In quale è il benzinaio? Aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai, passano i suoi occhi, ingegnere. Allora, lei non può uscire, vedo. Beh, forse... Forse sì, forse. Forse ci riesco. Lei mi sa che ha scoperto troppe cose. Troppe cose. Cioè, come si... In questo caso, le vedremo a dire noi. Non sto capendo nulla. Dovrei preoccuparmi. Ecco. Salve. Non riesco. Ma... Niente. Mi scuso, ti faccio... È successo... Faccio pure, tanto io da qui non mi muovo. Mi sa che lei ha visto troppe cose che non doveva vedere. Perchè, miseria. Attenzione. E invece lei non ha visto l'auto. L'armino è subito. No, rimane attenzione. Ok, perfetto. Allora, ingegnere, lei ha visto troppe cose che non doveva vedere. Ma io non sono ingegnere. Aspetti, ingegnere. Beh, dalla mia visuale pare che mi sta facendo il succhietto. Ah, ok, grazie. Aspetta, ingegnere. Aspetti, ingegnere, lei ha visto troppe cose che non doveva vedere. Era meglio se nascevo... Nascevo ciotto. Diventano sempre... Sempre di più queste cose. Tutto bene? Mi sa che la vogliono molto. Dov'è l'avvocato Chris? Ingegnere Chris? Ingegnere Chris? Ingegnere, venga! Scusi. Ci stanno inseguendo. Venga, ingegnere. Aia, aia! L'hai ripreso? L'hai ripreso, ingegnere? Niente. Ma... Cosa è successo? Ehi, niente. Oh! Attenzione, attenzione! Oh! Ce l'abbiamo dietro, scappi. Vada, 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 vada. Eccoci, eccoci. Scappi come se rottame. Corra, corre. Ce l'abbiamo dietro? Sì. Sono quasi da parte. È caduto fuori. No! Hanno fatto fuori... Dobbiamo... Ingegnere, saremo in conflitto a fuoco, ingegnere. Ma non ce ne fregavamo cazzo di quei ragazzi. E' stato con noi, non riusciva a scendere dalla macchina. Dobbiamo fare una cosa per vendicarci. Agno 3, salti fuori dalla macchina, eh. Vada, vada. Ve lo dica. Ecco, molta calma. Ah, ok, ok. Ok. Ok, no, stanno arrivando. Scappi a destra. Eh, stanno arrivando? Sì, stanno arrivando. Sì, sono lontani. Giri qui a destra. Non si può. Faccio io, faccio vendita quando arrivino. Sono quasi dietro. Sono incazzati. È il loro taxi, Chris. Eh, ho capito. Ma se dovessimo derubarli? Hanno le pistole, Chris. Hanno ucciso il nostro amico. Allora uccidiamoli noi, così rubiamo le pistole. E ora sto cercando. Solamente che questa macchina, prima dobbiamo fare di... Chris, tu non hai capito. Non possiamo uccidere, noi abbiamo le pistole. E qua dobbiamo solo fare di un totto. Ok. Io comunque sono in fil di vita, eh? Eh, anch'io, anch'io. Occhio al cane. Si prepara il mio tre, eh? Eh, ma mi sa che ci troviamo all'ospedale. No, no, no. Si prepara il mio tre, Chris. Vado giù per il mare, se non trovo un benzinaio. Ah, ok. Ok, abbiamo seminati quasi. Ma non credo. Ahia. Ahia. Bravo. No, questo non ci voleva. No, Chris, aiutami. Scendi, strozzo. Eh, come? È strozzo, t'ammazzo, eh? Come? Aspetta che scendi, st'ammazzo, strozzo. Aiuto, Chris. È la fine. È la fine, Chris. Scappa, scappa. Ti aiuto, ti aiuto, ti aiuto. Chris, dobbiamo, dobbiamo montare a largo. Dobbiamo andare a largo. Vai, andiamo, andiamo, andiamo. Vai, sono lontani, vai. Scappa, scappa. Gira qua a destra. Andiamo a largo, Chris. Vai, vai, vai. Mi butto in mare. Vai, vai, vai. No, sono ancora dietro. Cazzo, ma sono velocissimi. Mi butto in mare, Chris. Mi butto, eh. Nuota più veloce che puoi. Vai, vai, vai. Vai, vai, Chris. Da come sono morto? Da come sono morto? Dove è la... Ano, perciò, Chris. Ma, aerei. 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 salve signore sta negando salve non so facendo una piccola nottentina vuole una mano d'aiuto e vestito come scusi l'hai vestito con una mano d'aiuto e non posso salire sulla vostra barca prego ho perso il can antiprova ho visto c'è probabilmente un naufrago un naufrago un altro andiamo a cercarlo qual è il tuo nome capo come la posso chiamare io sono gallaghan gallaghan io sono ingegnere cialdone ingegnere cialdone ok credo che il suo amico sia negato è sicuro se vuole mettiamo un po di musica per attirarlo va bene ah oh tom johnson let's go mai salto sulla nave della polizia con questo sound ma lo fai non so dove sia il mio amico non sono capace a fare ricerche in acqua faccia lei faccia lei eh mi piace molto anzo napoli ok 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 il mio canale è il tuo amico? si è lui ok perfetto ciao signori tutto bene? ok ora chiariamo questa faccina del taxi no via la matta per favore signore venga di qua allora abbiamo segnalato di un furto un furto di un taxi qualcuno ha fatto qualcosa un furto di cosa? di un taxi vediamo un po' cosa è successo ma almeno mi sembra che sia successo niente eccolo Mike vieni qua Mike avete della droga? ed un peccato se ora la botto e vi arresto eccolo lì signore lì signori qua c'è della cocaina è loro che la metto anche in tasca così da vedere bene no no dove è mia? lei è della cocaina cane annusa dove è la coca? dove è mia? signore signore lì è della coca la sniffi la sniffi e vedo che non ha della coca è come mangiarla forza sdiffi la coca oh ma la resta ridando? no no non ho mai avuto niente io ok mi sembra giusto guarda la scelta giusta ma i chi vieni qua allora chi ha rubato il taxi? nessuno ha rubato niente a me risulta che qualcuno di voi ha rubato un taxi signori non mi sento alzate la voce chi ha rubato il taxi? niente è stato costruito nessuno ha rubato niente niente dov'è il taxi? mi scusami ci rispo ma cos'è che sta succedendo qua? figli di puttana abbiamo accettuto chi ha rubato il taxi no 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 Mike chi ha rubato il taxi dimmelo tu Mike dillo tu che non senti noi dillo tu è lui è lui è lui lui ha rubato il taxi lui ha rubato il taxi l'ha rubato lei? signore lo sai che ho la pastellina nella volante è vero? lei non vuole provare la pastellina vero? la proviamo? ve lo dico gli ha rubato il taxi? no no è stato signora con la giacchiera lei ha rubato il taxi non ha rubato il taxi non ha rubato niente io chi l'ha rubato? questi sono dei pazzi potrei guardare può controllare i documenti allora intanto io quando vedo nessun taxi signori non siamo in un film di fantascenso ok? come fa ad essere buttato il mare? dai per favore l'hanno buttato il mare no non vi credo era pieno l'hanno impienato di coca allora faremo così lei mi sta dando del tossico? ok lei viene con me in centrale esatto brava gente noi abbiamo un alibi perfetto mi sta dando del tossico del tossico ma come si permette? come si permette? se non lo so cuore e pace della cocaina chi l'ha buttata? sicuramente lo dio sono il vestito di bianco lei sta difamando il signore l'ingegnere io sono l'ingegnere salve l'ha buttata non ho buttato niente io oppure posso dire che mi sono immaginato che qualcuno ha ucciso qualcun altro signori giocheremo a pari o dispari va bene va bene va bene se esce pari vi arresto tutti se esce dispari consultiamoci va bene ok dobbiamo consultarci ci possiamo consultare? esattamente si allora noi abbiamo un alibi noi abbiamo un alibi ok prego non esiste nessun taxi io sto facendo i miei esperimenti qua perchè sono un biologo varino e con il mio assistente Chris stavamo cercando molluschi e fossili di varia natura in questo anno che bello dove ha studiato? alla sapienza e dove si trova? a Roma? Napoli a Napoli bello bello come con i suoi studi? difficili? che argomenti ha trattato? mi dica comunque l'ho pagato ha pagato? oddio quanto costa? quanto costa? la mia nipote ma le posso fare da tante se vuole mi farebbe piacere ma magari se mette se ci da una buona parola le posso dare io una buona parola che consigli della ora ci sono? tutti quelli che vuole io gli faccio la firma e via che è laudato ma quelli le hanno rubato un taxi? no le hanno rubato un taxi e non c'entra niente e lui allora perchè vi sta accusando? scusate i controlli documenti vuole sabotare i nostri controlli mani in alto è un animalista mani in alto ha buttato una pistola no ignoriamo subito grazie no ma qua sono tutti pazzi eh grazie ma io ho sentito beh ho sentito a due omicidi ma ci abbiamo qua un cane della cocaina come faccio a tirare prendi i crispi prendi 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 questa cosa oh chi che arriva? ok scusate la musica che metto quando faccio un omicidio ah ok eravamo rimasti c'è una persona dietro di scoglie eh dove? non la vedo qua dietro oddio mi scusate un amico un po' di merda sono un po' come i baglioni mi scusate ok ok perfetto eravamo rimasti oggi c'era ah è arrivato l'altro ragazzo l'altro ladro signori lì c'è una barca che l'aspetta e per Alcatraz vada vada ma come per Alcatraz allora corra prenda con la barca e lì c'è la moto d'acqua vada mi spara il piede no 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 mike inseguilo inseguilo mike mike inseguilo attaccalo bravo mike oh se mi picchi il cane io lo ammazzo come si chiama il cane è urbino? no si chiama mike mike però rubino è un bel nome no urbino urbino oh sta piccando il cane sta piccando il cane poi il cane l'ha battuto e il mio cane è di droga il mio mike il mio mike eravamo rimasti imparabili i corsi di studio quanto costano? guardi in realtà io posso fare una firma su tutto quello che vuole un po' con i corsi di studi posso scegliere io vorrei lavorare nella pubblica amministrazione non vorrei fare un cazzo capito quindi mi consigli dai li faccio consultare con i miei qui se fossi lavorare nella pubblica amministrazione mi dica Chris vorrei lavorare nella regione ok va bene come funziona la regione? cosa mi consiglio? ma cosa le consiglio a tutto che punto di vista? beh per lavorare tanto e non fare un cazzo ehm così su due piedi non mi viene in mente niente glielo dico io glielo dico io mi dico chiama qualche cugino ma mi hanno rubato la volante oh mi hanno rubato la volante vabbè cos'è che capitano diceva qualche cugino qualche cugino come si prendono in braccio le persone? le sbraccio mi vuole rubare il cane o occhio la schiena le potrebbe far male ehm sceriffo volevo chiedere una cosa mi scuso mi scuso non c'è problema potevo raccogliere questa cocaina per delle ricerche? ma certo ma certo grazie allora io sceriffo vi dico mi sono mi sono presentato anche con il suo il suo forse superiore ma sceriffo vuol dire che lei comanda le sezioni di periferia? no io in realtà lavoro anche a sud in città quando c'è bisogno di supporto io però principalmente lavoro qua contro gli animali la fauna ah perfetto fa un po' il ma non è che vuole un aglielino per Natale? molto volentieri una bella pecora un maialino non lo so me lo dica molto volentieri molto volentieri ok ok ma io in realtà gli volevo parlare di una cosa con cui ho parlato anche con mezzogiorno ok ho conosciuto Mauro bell'uomo ok bel ciaddone mi sa che siamo un po' troppo vicini a parlare non crede? no no non voglio un bacio assolutamente signore no siamo molto vicini comunque ho conosciuto metogiorno e vorrò informare che io sto facendo degli esperimenti degli esperimenti per questo siero ok con il mio con il mio collega Chris questo siero che diciamo ti dà poteri che si trasforma oh si anche questa questa è trasformata ah ma Chris mi dica mi dica oh è la tua overdose cazzo sono pipatissimo io nascondiamo le prove beh Chris dobbiamo salvare questo pover' uomo dobbiamo salvare questo pover' uomo Chris eh sono fattissimo io andiamo no ma come andiamo no ma come andiamo ma ha perso il cane anche oh arriva qualcuno come si non mi ricordo salve è morto o stronzo e diciamo che si ha avuto un problema piccolo problema ha avuto un problema di cuore mi sa oddio ok oh eccolo scusate mi devo pulire un po' di comito ok diciamo oh ciao caro flame che è questo ragazzo della spiaggia o lui è flame il mio caro amico è titolare di un'officina o meglio lavorare in un'officina molto bella salve salve signori piacere piacere ingegnere chardone ingegnere connor oh ingegnere lei invece di che cosa si occupa signor connor ma io sono la spalla di dell'ingegnere principale comunque mi raccontava di questo siero vorrei ah vorrei fare telegiare che mi ha detto delle sperimentazioni perché ho visto mi ha detto l'avvocato mezzogiorno che ci sono degli animali ci sono io vorrei diventare uic cds no non credo però vorrei prima devo prima sperimentarlo su delle su delle cavie diciamo questo giro di di cavie su cui viene lo sperimentale ogni bolla maia lì ah figa figa questa cosa io ti consiglio le scimmie lei mi ha parlato che si possono ancora questa in città Mauro mi ha parlato io lo chiamo Mauro mezzogiorno il cattone ah certo io conosco bene come no esatto con Mauro mi aveva detto che c'erano queste scimmie allora volevo fare dei test di laboratorio con delle cavie ok è interessante guarda possiamo dire vabbè ma sono fidati questi sembrano fidati sono ingegneri mi hanno raccontato a me che hanno comprato le scimmie ci stanno però hanno pure un costo ecco il problema dipende il valore economico che voi vi portate appresso li andiamo a prendere a mano in Thailandia il viaggio costa no no ma noi non vogliamo delle scimmie che cazzo ti serve allora persone 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 a cui sottoministrare questo cazzo tesero quindi delle cavie ma devono essere vive o morte vive vive allora io so vogliamo vedere perché so che c'è l'esistenza di queste scimmie per cui scimmie umanoidi con pensieri da umani o quelli per cui vorrei vorrei capire meglio di questo cielo e non so se esiste vorrei svilupparlo tutto è possibile neanche i cellulari esiste guardi io le posso dire che esiste pure questo esistono pure scimmie parlanti con pensieri umanoidi però l'informazione penso che sia abbastanza la cazzo tesero lasciamo stare per favore ci sono anche lì campi figliore ha dell'acqua che sto per svenire lei io volendo grazie comunque vorrei fare questi test anche perché mi tengo tengo poco contante mi sento io io mi è andato nella scuola abbandonata secondo me possiamo mettere in contatto il signore con i laboratori potremmo provare anche no per me potremmo andare a sta dove potremmo andare in una scuola abbandonata ci sono dei tossici potremmo prendere loro che dici e poi li devi posare come chiare esatto chi dice vuole andare lì guardi all'inizio in realtà mi servirebbe prima di di fare questo ve lo dico ve lo dico a voi credo sia penalmente perseguibile ma con il mio assistente Chris vorrei prima riuscire a portare qualche persona millantando questi esperimenti ma derubare dei pochi avere che ha per riuscire a sopravvivere mi sembra giusto mi sembra giusto perché sa come un ingegnere oggigiorno non trova nessun lavoro è un libero professionista è un rischio è un rischio ovviamente questo mezzogiorno non lo sa di questo piccolo piano che ho con Chris oh attenzione oh attenzione il signore è andato una stirata pazzesca il cazzo è è fa parte di cercare vabbè mi scusi io voglio ripenere la causa le serve qualcosa per la per la scopo scientifico forse un po' di cocaina un po' di cocaina beh certo con quante ne volete quanta ne volete ok ok mi dica cosa sai il bello è che Gallagher è corrotto fragile ok lo facciamo così infatti io sono molto fiero di non avere nulla a che fare con questa persona andiamo allo scedifatto a prendere al deposito proprio la cocaina poi qualcos'altro non si può avere un'arma per per la scienza per la scienza che tipo di arma beh un'arma leggera una pistola ecco va bene va bene allora purtroppo non posso aiutarti andiamo a rubarle in centro deposito andiamo a eccitrare andiamo andiamo alla prossima signori no 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 andate 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 alla prossima signori arrivederci se serve basta chiediti a Gallagher che mi chiama se dovesse servire io mi distacco grazie buona passeggiata sul mare da quest'ora oppla abbiamo le pistole oh abbiamo le pistole chris però scusami Gregor Ingegner Gregor lei mi si deve però mettere in un abito più elegante è un Porsche bello questo Porsche è molto bello è molto bello è molto bello bello è molto bello sì ma è suo? no sì è suo adesso è un po' lento è elettrico ma mi può dire un secondo questa famosa leggenda di solo un poliziotto posso prendere l'auto è vera? non ho capito in che senso non ho mai sentito questa leggenda che lei se c'è una rapina può andare dire ad un passante mi dia l'auto se è a piedi sì può darsi può sequestrare? sì è una Porsche elettrica? sì è una Porsche elettrica è una merda ah ma lei non lei ha qua il suo studiolo? io ho il mio studio cos'è lo studiolo? la sua questa è una stazione di polizia sì io lavoro qua andiamo allora ma con chi lavora qua? qua ci sono i sceriffi ma al turno di notte c'è giusto una zitticona che lavora in ufficio allora una criticona? no no dorme dorme si chiama Luisa ciao Luisa ciao Luisa ciao Luisa vediamo un po' vediamo un po' controlliamo un po' cosa c'è qua dentro permesso ah qua lei nel suo legno sì 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 ma i suoi supervisori sanno cosa fa qua? non ci sono le telecamere allora quindi avete detto della cocaina quante le volete? ah io non le voglio nessuno però magari Chris può fare direi un 25 grammi no un 50 grammi no è mezza panetta presa oggi allora poi per quanto riguarda le armi da fuoco vediamo un po' per quanto si ma questa mica è tutta per te no per favore per favore ah giusto è una sala off-limit quindi se dovete ci sanno i letti riportatevi pure all'ora io vero qui la notte a dormire ma qua non è che siamo incarcelati? io sono un ingegnere mi sento mi sento triste qui sta a stare dietro le sbarre Chris avvocato Gregor ciao cazzo 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 ci sono i colletti ci nascondiamo ci nascondiamo ci nascondiamo ci nascondiamo ci nascondiamo ci nascondiamo arrivo subito a qua un passido qua 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 questore анna mi chiede avanti un tappi giallo ma chi lo sa chiaro allora mi raccomando lavatevi le mani sono un po sporche l'altro giorno hanno perso la vita in situazione di quest'arma non hanno sediale grazie mille ok aggiunto per favore metto un attimino la mano sul mio giubbotto grazie vada 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 metta la mia mano sul mio giubbotto ok anche lei per favore ok ora le vostre impronte potete andare è stato un piacere signori vi lascio anche per me anche vi serve qualcos'altro cellulare soldi qualcosa no grazie nulla nulla signori ingegneri voglio sostenere la causa quindi mi faccia sapere va bene posso chiedere il suo numero si il mio numero anzi non vedo quello di un amico mio si chiama mario mario 8 8 8 8 8 lui è mario mario mi raccomando è una grande persona 5 volte 8 non ho senza prefissio mi raccomando sono 5 volte 8 quanto perdono una sim installata questo telefono di merda vuole una sim ma già l'ho installata la sim anche io ce l'ho installata mi fare con formula 5 formula 5 gestione sim e modelli sim ok a posto niente vabbè vabbè mi metterò a mente questo numero tenga questa utilizzi questa tenga per un'altra sim la monti è a posto perfetto bene è stato un piacere super a top un piacere anche per noi bene allora buona serata è stato un piacere se ho delle notizie le faccio sapere per queste serie va bene ingegnere come dicono gli ingegneri collaboriamo sempre con tutti va bene va bene ma andiamo a studiare i fossili io non c'è un certo Ugo ma ci è venuto a mancare va bene arrivederci arrivederci grazie a voi a lei vediamo la macchina del schlifo che gentile è questo signore però ho avuto un po' laura un po' con tutte queste impronte tracce non tracce e dovremmai ci siamo ci siamo dentro non possiamo ai nostri impronte digitali ciao sono Mario Mario chi è ciao sono Mario Mario chi è salve Mario sono ingegnere ciardone ma non c'è ah cosa ma io non la conosco ah ah senti vai più piano Chris va bene sono sono amico dello sceriffo quale sceriffo lo sceriffo di città dell'est parla di Roberto si Gallagher Gallagher no Gallagher un rete parla di Gallagher di Gallagher ah Gallagher sì mi ha dato il suo nome mi ha detto di rimanere in contatto io ora sfortunatamente la devo la devo salutare come la salgo ingegnere ciardone buonanotte buonanotte grazie allora dove sei Romina Romina ci siamo ci siamo ingegnere ingegnere mi lasci qui dove qui 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 ingegnere mi approprisco qui la saluto ingegnere l'imito 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 Grazie a tutti.